Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e sono qui oggi per parlarvi delle letture che ho fatto ad ottobre. Ad ottobre ho letto nove libri, questi più alcuni audiolibri che non ho in cartaceo e sono qua appunto per fare il resoconto finale di ciò che ho letto, se mi è piaciuto, non mi è piaciuto, che cosa ne penso e condividerlo con voi. Mi aspetta allo stesso modo che anche voi facciate lo stesso nei commenti qua sotto. Ogni mese mi diverto a leggere che cosa avete letto voi, mi diverto a guardare che cosa avete letto voi, a prendere ispirazione e spunto per le letture che si prospettano nel mese seguente. Sì, ho letto proprio nove libri e inizio subito con il primo, che ho letto in realtà quasi totalmente a settembre, ma ho concluso ad ottobre, che è Il circolo della notte, mi viene da dire Il circolo della notte, ma in realtà è Il circo della notte di Erin Morgenstern. Ha senso secondo me anche chiamarlo Il circolo della notte, in quanto il libro tratta di questo circo che viene effettivamente tirato su da un circolo quasi di amici che si incontra la sera durante queste cene, questi banchetti per parlare di come si immaginano questo circo, che poi negli anni viene tirato su ed ha un che di magico. Tutto il libro, secondo me, si concentra moltissimo sull'atmosfera che si trasmette al lettore. Quando si legge questo libro ci si immerge proprio completamente in un posto mentale, lontano. Non so spiegarmi, ma si tratta di un libro d'atmosfera a tutti gli effetti. Un libro perfetto da leggere in autunno, si parla molto di autunno in questo libro. E per rendere l'idea, per comunicare bene come vengono descritte le scene, le ambientazioni, i dettagli, gli oggetti all'interno di questo libro, ho creato un mood board che ho fatto su Pinterest, l'ho creato lì, perché secondo me è il modo migliore per raccontare questo libro. È un libro, infatti, che vive di suggestioni, che vive di descrizioni, che vive del racconto degli oggetti che compongono l'armamentario dei personaggi all'interno di questo libro. È un libro che vuole trasmettere quasi più un ambiente che una storia, che raccontare una storia. Infatti la storia di per sé, secondo me, è abbastanza debole all'interno del romanzo. Non parliamo di una storia che travolge il lettore, che vuole sapere che cosa accadrà, che vuole sapere che cosa succede. Non è una storia, secondo me, neanche dai particolari colpi di scena, anche se l'autrice, secondo me, un po' ne voleva mettere. Non è un libro che da questo punto di vista sorprende, ma è un libro che cattura proprio per le atmosfere, per una narrazione intrisa di descrizioni. È questa la cosa, secondo me, fondamentale, che rende questo libro speciale e diverso dagli altri. È un libro proprio d'ambiente, mi verrebbe da dire, cioè proprio d'ambiente. Vengono descritti questi frac, vengono descritti gli ombrelli che i protagonisti usano, neri. Vengono descritte queste cene di cui vi parlavo prima, nei dettagli, che cosa si mangia, questi dolci assurdi. Vengono descritte tantissimo tutte le componenti culinarie all'interno del libro, dei dolcetti che si possono acquistare a questo circo, ai popcorn neri. Io ho cercato delle foto così su Pinterest, ma ho fatto fatica a trovarle, perché ci sono, ad esempio, questi cioccolatini descritti all'interno del libro, che sono dei topolini, tipo con la coda di liquidizia. E io non sono riuscita a trovare una foto che rispecchiasse quello che io mi ero costruita in mente, però dovete immaginarvi proprio un libro che costruisce un immaginario. E questo sicuramente rende questo libro, appunto, speciale. Poi, anche i colori della copertina richiamano molto i colori che vengono citati più spesso all'interno del libro, quindi il rosso come elemento di contrasto tra il nero e il bianco, che invece sono i due colori principali e che descrivono appieno il romanzo. Cioè, il romanzo in bianco e nero, e ogni tanto c'è questo rosso fuori tono, quasi, che spicca, che sbuca all'improvviso e che ti fa percepire che qualcosa è diverso in un certo qual modo. E mi è piaciuto davvero tanto. Un altro libro che ho letto, anzi ascoltato, è Una donna di Sibilla Aleramo. Questo libro mi è piaciuto davvero molto. Sto approfondendo nell'ultimo periodo tantissimo la letteratura italiana scritta da donne e penso che questo memoir sia davvero uno dei capostipiti, diciamo, di questo genere, chiamiamolo così, in quanto Sibilla Aleramo, che è in realtà uno pseudonimo, è un'autrice che decide di raccontare la sua vita quasi fosse un suo diario all'interno di questo libro. È una storia che porta con sé tutte le criticità che le donne dovevano sopportare, sì, tutti i problemi che le donne dovevano sopportare nel Novecento in Italia. Sì, il libro è del 1906, quindi parliamo proprio di fine Ottocento, inizio Novecento, parliamo di un periodo in cui le donne scrivevano poco, difficilmente venivano riconosciute come autrici, ma soprattutto erano relegate al ruolo di madri. Ed è proprio di questa maternità, di questo tema dell'essere madre, che Sibilla Aleramo parla davvero molto e mettendo tutta la sua anima. parla tanto di matrimonio, parla tanto del rapporto che lei ha sia col marito che con sua madre. Cioè, la madre di Sibilla Aleramo, non la madre del marito. Ma insomma, il rapporto madre-figlia è un tassello importante, tant'è che lei arriverà a dire all'interno del libro una cosa che io ho sottolineato e che secondo me è rappresentativa di questa storia, ovvero che se una buona volta la fatale catena si spezzasse e una madre non sopprimesse in sé la donna e un figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità, allora si incomincierebbe a comprendere che il dovere dei genitori si inizia ben prima della nascita dei figli e che la loro responsabilità va sentita innanzi, appunto allora che più la vita egoistica urge imperiosa seduttrice. Beh, innanzitutto da queste frasi si può notare la prosa di Sibilla Aleramo che è carica di un tempo che non c'è più, cioè è un modo in cui noi non parliamo più ma è davvero rappresentativa di un periodo. In più, a me è piaciuto molto ascoltare questo libro perché è il libro proprio che si presta per essere ascoltato quasi come un racconto. Sibilla Aleramo che proprio racconta la sua vita. Da questo punto di vista infatti mi è piaciuto tantissimo fruirlo in questo modo ascoltandolo. In più, come si può notare anche da questo passaggio, si parla molto della riflessione che le donne già all'inizio del Novecento hanno iniziato a fare sulla loro condizione, in questo caso sulla condizione di madre. Essendo una storia, un racconto autobiografico, poi si può vedere come questi pensieri si tramutano poi in scelte nella vita di Sibilla Aleramo che deciderà ad esempio... no spoiler, no mi fermo, non dico cosa deciderà di fare perché dovete leggere il libro però quello che voglio dire è che è una riflessione che rimane sempre quella attorno al ruolo della donna collettiva. Cioè in tutti i libri che sto leggendo di letteratura italiana mi rendo conto che le donne a un certo punto iniziano a pensare alle stesse cose iniziano a riflettere e iniziano a riflettere mai isolate dal resto del mondo ma iniziano a riflettere in collettività, parlando con le amiche, leggendo libri femministi che uscivano leggendo sui giornali di questo femminismo che sembra sempre lontano a chi scrive ma che poi inizia a piantare un seme nella testa che cresce, cresce, cresce fino a quella che è una presa di coscienza, come dicevo, collettiva. E questo mi piace perché leggendo Sibilla Leramo del 1906, passando poi a leggere Goliarda Sapienza, L'arte della gioia, passando poi a leggere Milena Minani, La ragazza di nome Giulio passando poi infine a leggere altre altre autrici e arrivare a Elena Ferrante del 2012 mi sembra si vede che le donne hanno fatto un percorso collettivo ispirato da voci forti presenti al tempo leggendosi a vicenda e coltivando a vicenda i propri pensieri. Spero di essermi spiegata. Continuo a parlare di donne in letteratura perché il prossimo libro che ho letto è L'incubo di Hill House di Shirley Jackson. L'ho letto insieme al gruppo di lettura Le Pagaie, più tardi si terrà la live quindi sono bella fresca di nozioni su questo libro. In particolare si tratta di uno dei romanzi gotici per eccellenza, considerato uno dei romanzi gotici per eccellenza scritto del 1959. È un libro che porta con sé tantissime tematiche che poi sono state riprese nel tempo come quella della casa infestata. Hill House infatti è la protagonista indiscussa del romanzo. Una storia spaventosa dalle vibe molto cupe, tetre, misteriose. Una storia che rimane quasi per tutto il tempo con il dubbio se si tratti di qualcosa di paranormale o qualcosa di spiegabile razionalmente. È un romanzo che scende proprio nella psicologia. La casa è una metafora, in poche parole. La metafora della mente umana, un posto insidioso, difficile da conoscere, dove tutto ci sembra sempre così caotico, così confuso e non si riesce a trovare quasi l'uscita. Un posto dove accadono cose suori dal nostro controllo. In particolare in questa storia abbiamo quattro personaggi che decidono di andare in questa casa appunto a indagare le attività sovrannaturali che si dicono avvengano appunto durante la notte. Ci sono quindi attività misteriose che non si riescono a spiegare, che hanno dell'irrazionale. La casa viene descritta costantemente come una presenza maligna. Sembra quasi sempre che ci sia qualcun altro che osservi, qualcun altro che guidi le sorti dei personaggi che stanno in questo luogo, cambiano e iniziano a scontrarsi l'uno con l'altro. Quasi ad arrivare alla follia. Non dico di più, secondo me questo romanzo va letto più che altro per comprendere tutta la letteratura che c'è stata dopo. Quindi come poi autori come Stephen King o qualsiasi regista di film horror abbia preso ispirazione da questo romanzo per scrivere di case infestate. Un altro libro che ho letto è Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata. L'autore che non cercherò nemmeno di pronunciare è l'autore anche di Bojack Horseman. Una serie che io non ho mai visto per intero, ma ho visto qualche puntata che va in onda su Netflix. Va in onda, beh, la fate andare in onda voi quando aprite Netflix. Comunque, presente su Netflix. L'autore ha deciso di scrivere questa che è una raccolta di racconti. Ce ne sono tantissimi, alcuni sono molto brevi, alcuni sono delle semplici liste, alcuni sono un po' più lunghi, alcuni mi sono piaciuti di più, alcuni di meno. Ma in generale il livello secondo me è altissimo. Soprattutto perché io faccio fatica a trovare delle raccolte di racconti che mi intrighino, più che altro perché a volte finisco di leggere un racconto e dico, tipo, e quindi? Cioè, nel senso, mi sembra che abbiano un inizio, abbiano una fine, ma, cioè, mi manca, non so, la morale, cioè queste cose qui, ma banali anche, cioè mi manca un po' il senso a volte. Invece qui ogni volta ho avuto sempre la percezione che mi sia stato trasmesso qualcosa di grande. In particolare la tematica principale è l'amore. L'amore in tutte le sue forme. L'amore buono, l'amore cattivo, diciamo, l'amore per il compagno, l'amore per il proprio cane. L'amore in tutte le sue forme, ma davvero? Cioè, l'amore di quando ci si mette insieme, l'amore di quando ci si lascia, l'amore di quando ci si prova a sposare. Il tutto però è raccontato sempre con una nota di ilarità, mi verrebbe da dire, sarcastica. Cioè, c'è sempre quel qualcosa di interessante in ogni racconto. Tipo, me ne vengono in mente tantissime perché mi sono rimasti abbastanza vividi in testa. Un racconto, ad esempio, vede il protagonista come, è l'ultimo, questo è uno degli ultimi, come uno dei presidenti degli Stati Uniti d'America, che tra l'altro penso sia quello in copertina, e lui di lavoro fa quello. Cioè, lui di lavoro, tipo, si mette questo costume da presidente degli Stati Uniti d'America e sta in questo parco insieme agli altri presidenti degli Stati Uniti d'America. Ed è tutto così verosimile, perché alcuni racconti hanno del reale, cioè nel senso li potreste tranquillamente trasporre nella realtà e avrebbero un senso. Alcuni invece sono chiaramente verosimili, cioè si parla di cose che non potrebbero mai accadere. E in questo racconto, ad esempio, accadono cose che non hanno senso. Però nel loro non avere senso sono quasi delle metafore per altre cose, capito? Cioè loro esaltare magari alcuni aspetti di queste cose, poi ti fa capire che c'è un nesso, no? Cioè bisogna pensarci un po', è un libro che bisogna pensarci un po'. Tipo, ci sono loro che si vogliono sposare in uno dei primi racconti e vengono descritti tutti dei rituali che, cioè tipo, all'inizio non capisci se sono veri o non sono veri, poi in un certo punto dici no, non esiste questa roba, cioè non è neanche una cultura che magari non conosco io, cioè proprio una roba che non esiste, questa cosa qua. Però ha un nesso con la realtà. Cioè tipo lui che le deve regalare l'uovo d'oro, l'uovo per il matrimonio, che è un po' il corrispettivo del nostro anello. Oppure loro che devono sgozzare dei maiali prima di sposarsi e tu dici ma in che senso ed è il corrispettivo di altre tradizioni che noi abbiamo. Ma trasformati in qualcos'altro ti fanno prendere quella distanza necessaria a capire quanto queste tradizioni magari siano insulse, inutili e non raccontino effettivamente quella che è una storia d'amore, quello che è un rapporto tra due esseri viventi. Ecco, io sto parlando tantissimo comunque, è molto bello, mi è piaciuto davvero tanto. Penso che sia un libro perfetto da regalare anche questo perché comunque può intrigare parecchio anche il lettore meno canito e ve lo suggerirò sicuramente da regalare a San Valentino. Dopodiché ho letto 20.000 leghe sotto i mari. Non l'ho letto ma l'ho ascoltato insieme a Marco, ve ne abbiamo parlato anche nel vlog che abbiamo girato al salone del libro ed è il libro che abbiamo ascoltato per andare e per tornare da Torino. È stato un viaggio molto lungo ma anche molto bello perché abbiamo viaggiato sul Nautilus 20.000 leghe sotto i mari e abbiamo fatto una bellissima... abbiamo vissuto una bellissima avventura. Un libro che secondo me si presta tantissimo a dei viaggi in macchina proprio perché c'è questa connessione tra tu che stai viaggiando e il libro che ti sta facendo vivere un viaggio è un classico secondo me per eccellenza del suo genere quindi genere d'avventura, tra l'altro steampunk. Ci sono tantissimi riferimenti all'interno del libro a una scienza immaginata del periodo nel senso che Jules Verne non aveva le conoscenze che abbiamo noi adesso in quel periodo non c'erano le conoscenze scientifiche che abbiamo noi adesso e quindi ci si può immergere nella mentalità di un tempo che non c'è più e cercare di comprendere come queste persone potevano immaginarsi un futuro un mondo diverso in questo caso il funzionamento di un sottomarino il funzionamento di tante cose che Jules Verne cerca di inventare cerca di mettere insieme cerca di immaginare arrivando a volte anche a predire cose che poi saranno inventate quindi c'è anche un po' una predizione diciamo comunque un classico molto bello e piacevole sempre al salone del libro ho avuto l'occasione di ascoltare un intervento fatto da André Assiman l'autore di Chiamami col tuo nome L'ultima estate ma soprattutto Mariana che era il libro che stava presentando beh l'ha presentato talmente bene che vabbè oltre a essermelo fatta autografare l'ho comprato e l'ho letto praticamente in una giornata a parte che si tratta di uno di quei libri molto veloci dalle poche pagine 111 molto spaziosi all'interno con un font molto spazioso un'interlinea molto estesa che un'interlinea può essere estesa vabbè insomma avete capito che si fa leggere tranquillamente tratta la storia di Mariana Mariana è una ragazza che è stata praticamente appena lasciata il tutto prende ispirazione da una Mariana del passato una monaca che scrisse appunto queste lettere lettere di una monaca portoghese nelle quali raccontava questa sua avventura con un uomo che l'aveva in poche parole sedotta e abbandonata da queste lettere Andre Assiman si è lasciato ispirare per scrivere una storia ambientata ai giorni nostri una storia secondo me davvero carica di una verità assoluta quasi mi verrebbe da dire una verità assoluta se siete mai stati lasciati leggete questo libro e rivivete tutto cioè rivivete tutto perché lui ha il potere di trasmettere proprio un'emozione un sentimento un qualcosa di interiore io non saprei neanche con che parole raccontarvi non so il ragazzo che mi lascia lui sì lui sì lui è capace di un incredibile utilizzo delle parole il suo modo di scrivere è poetico io ormai ho un po' parlato di questo libro in tantissimi video e se non l'avete ancora comprato se non l'avete ancora letto continuerò a consigliarvelo un libricino semplice potrebbe forse deludere chi ha aspettative troppo alte perché comunque aspettatevi una bella storia ma ok non una cosa indimenticabile credo però allo stesso tempo è uno di quei libri che si legge e non ci si pente di aver letto se si ha un minimo di sensibilità di voglia di medesimarsi appunto magari potreste non aver vissuto queste cose ma se avete un po' uno spirito di voler ascoltare secondo me riuscirete a percepire molto avevo voglia di libri brevi alla fine di quest'ottobre e ho cercato di soddisfare questa voglia leggendo anche il movente di Cercas Javier Cercas questo libro è un libro minore dell'autore sicuramente si tratta del racconto che lui fa scrivere a uno scrittore cioè è una storia nella storia c'è un po' questa meta letteratura in questo libro perché il protagonista del libro è uno scrittore che deve scrivere una storia deve scrivere un libro si tratta di uno scrittore che non è uno scrittore affermato e che decide per cui di ispirarsi alla vita vera per il suo nuovo libro e si ispira a quello che fanno i suoi vicini di casa la cosa è spaventosa perché a un certo punto i suoi vicini di casa iniziano a comportarsi come si immaginava lui per il suo libro iniziano a fare le stesse cose e questo è ovviamente spaventoso e crea un momento in cui non si riesce più a capire che cosa è reale e che cosa è il libro che lui sta scrivendo è un libro molto breve cioè nel senso non è una lettura di cui mi pento perché comunque mi ha fatto passare delle piacevoli ore però ecco non penso neanche che sia una di quelle letture essenziali o che dici wow cioè di questo tipo sono stati scritti libri secondo me molto più interessanti e fatti anche meglio da questo punto di vista prossimo libro che ho ascoltato Louisa May Elcott Piccole donne lo metto già via perché questa edizione qua in realtà vorrei venderla ha una copertina terribile e io l'ho ascoltato interamente in audiolibro questo libro anche si presta secondo me per essere ascoltato innanzitutto perché è una storia pensata per un pubblico abbastanza piccolo, giovane per bambini, una storia per bambini e non ho nessun problema a dirlo perché spesso e volentieri le storie per bambini sono scritte meglio che le storie per adulti quindi va benissimo ed è una storia per bambini che quindi ha come caratteristica l'idea per cui un adulto si mette là e la legge a qualcun altro e questo libro si presta quindi molto bene per un audiolibro in quanto hai un lettore che sta lì e ti legge e tu ascolti io ho ascoltato questa meravigliosa storia di queste quattro giovani ragazze piccole donne che vivono in America e sono abbastanza povere ma non poverissime e passano tutte quelle che sono le problematiche della loro epoca della loro condizione dell'essere delle giovani donne in America ok? un po' povere e dell'essere in questo momento in quel momento preciso del libro senza il padre che è andato in guerra e lei ha lasciato il sole con la madre è un libro che in questo senso indaga molto bene le dinamiche familiari però è un libro che rimane secondo me molto leggero e ha come sottotono come sottotono non come sottotono ha come sottofondo sempre una forte moralità che è una moralità con cui spesso io non concordo tipo una delle piccole donne in questione è un po' narcisista in senso estetico cioè si guarda molto allo specchio è una che è interessata a vestirsi bene in un certo modo cioè è un personaggio di questo tipo e le vogliono insegnare a tutti i costi che lei invece deve essere più umile deve considerare di più gli altri deve pensare meno a se stessa per quanto mi riguarda a me può fare quello che vuole cioè nel senso potrebbe continuare ad essere narcisista e essere quella che vuole essere considerata bella da tutti cioè perché deve essere diversa da così a volte c'è un po' questa morale che è una morale di un tempo che non ci appartiene più che a volte va anche in contrasto loro devono essere buone a tutti i costi generose a tutti i costi pensare sempre agli altri a tutti i costi queste virtù vengono esaltate al massimo e loro a un certo punto non sembrano neanche più delle giovani donne delle giovani bambine cioè sono troppo perfette ogni volta che la loro madre le insegna qualcosa loro imparano subito sono subito pronte a rinunciare al loro piccolo stipendio magari per le persone più poveri sono subito pronte a chiedere scusa sono subito pronte a perdonarsi l'un l'altra vanno fin troppo d'accordo l'una con l'altra cioè leggendo questa storia quando si è grandi ci si rende secondo me conto che non può essere davvero così è tutto troppo idealizzato e cioè non torna c'è quattro ragazze in una casa da sole litigano tipo due volte in tutto il libro fanno pace subito sì c'è capito che c'è qualcosa che non va e in questo poi vuole essere un libro quindi molto molto morale e dare quasi un buon esempio a dei giovani lettori dire ecco così bisognerebbe comportarsi e questo sinceramente lo capisco e l'apprezzo leggerò quasi sicuramente anche piccole donne crescono che quello dopo più prossimamente lo leggerò o lo ascolterò ultimo libro che ho letto in realtà anche in questo caso ascoltato che voglio assolutamente recuperare in cartaceo è il corpo elettrico di Jennifer Guerra questo libro è bellissimo innanzitutto penso sia uno dei testi femministi che parla di femminismo più interessante che ho letto nell'ultimo periodo è scritto da un'attrice italiana e per questa ragione ha tantissimi collegamenti con la nostra realtà molto vicina e quindi quando lo si legge non si prova quel distacco che spesso si prova quando si legge un testo magari scritto oltreoceano da parte di un'autrice americana ed è un testo che allo stesso tempo riesce ad essere preciso e puntuale su tematiche che possono essere ai più più note ai più più note e dare allo stesso tempo uno spunto in più per un approfondimento ulteriore per fare quel salto ulteriore che magari potrebbe mancare a chi ad esempio come me ha letto già tantissimo di femminismo innanzitutto parto col dire che ovviamente non c'è un solo femminismo ma questo penso che ormai sia chiaro e noto ci sono tantissimi femminismi e lei parla di tantissimi femminismi diversi parla di concezione del corpo e parla di come il corpo viene inteso nella società odierna attuale soprattutto il corpo della donna ovviamente lei fa riferimento a una poesia di Walt Whitman una poesia meravigliosa che è I Sing The Body Electric una poesia pazzesca una roba incredibile scritta nell'ottocento da questo autore che racconta secondo Jennifer Guerra un corpo molto vicino a quello inteso dal femminismo e dai femminismi un corpo elettrico che deve essere desiderato un corpo in costante mutamento un corpo che non si distingue più tra quello di un uomo o di una donna bisogna che voi leggiate quella poesia perché è pazzesca un corpo che deve essere amato in un cercello è una poesia bellissima dai cosa stiamo dicendo leggetevi la poesia di Walt Whitman lei parte da lì e sviluppa il libro in diversi capitoli in cui appunto parla di corpo come corpo politico perché dice il corpo non può essere inteso come un fattore semplicemente privato come un oggetto privato perché spesso e volentieri il corpo rispecchia un ideale politico dopo di chi parla quindi il primo capitolo il personale è politico si intitola così poi parla di contenuti e contenitori poi parla di lo si diventa facendo riferimento alla famosa frase di Simone de Beauvoir donne si diventa e racconta il perché una frase spesso fraintesa è quella di Simone de Beauvoir ne avevamo parlato anche ne avevo parlato io anche nel reading vlog in cui leggevo il secondo sesso da cui è tratta il libro da cui è tratta questa frase e lei secondo me è proprio puntualissima nello spiegare perché per come cioè ha una capacità molto alta di farsi comprendere Jennifer Guerra che io vorrei avere la stessa incisività cioè con una frase mi spieghi tutto e io sono tranquilla che ho capito e lei bravissima in questo poi il quarto capitolo si intitola dalla parte delle bambine in cui parla del fatto che alcune cose vanno insegnate da subito e poi parla di questo è il mio sangue quindi tutta la questione mestruazioni tabù eccetera eccetera e poi capitolo 6 una buona eroina è un'eroina morta un capitolo che mi ha ricordato tantissimo un altro libro sempre edito da Thlon Thlon edizioni che ha pubblicato anche il corpo elettrico che è il mostruoso femminile dove si parlava proprio di dead blonde ovvero quella bionda che muore sempre nei film horror nei film thriller perché tanto è sacrificabile mi ha ricordato molto questo capitolo quell'altro libro quindi tutto bello tutte letture interessanti sto facendo davvero delle belle letture in questo periodo sto scoprendo libri molto belli e oltre ai classici che sto recuperando quindi 20.000 leghe sotto i mari piccole donne che mi tornano utili per capire che cosa c'è stato mi stanno piacendo davvero tanti libri recentemente pubblicati come appunto qualcuno che ti ami tutta la tua gloria devastata il corpo elettrico queste sono sicuramente le due letture del mese e le letture che mi sono piaciute di più anche una donna di Sibilla Leramo ovviamente ma questo lo avevate già capito e dunque basta io ho parlato penso a sufficienza dei libri che ho letto e mi aspetto di leggere qua sotto nei commenti che cose invece avete letto voi durante ottobre noi ci vediamo al prossimo video a prima se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like di sostegno e noi ci vediamo al prossimo video ora si va bene ciao ciao